bene ragazzi oggi siamo qui al lago del sasso ad arcisate in provincia di varese questa mattina c'è stata una gara trottaria quindi il pesce ora è tutto a punto e in questa situazione proveremo comunque pescare delle trote con degli spoon in particolare con l'ice fake della valken spoon che permette una grande lanciabilità useremo la misura da 1 grammo e 6 e cercheremo di farvi vedere come questo spoon riesce comunque ad essere efficace su trote apatiche in una situazione come questa oggi proveremo gli ice fake questi bellissimi spoon e cercheremo di utilizzare per la pesca di trote apatiche guardate che belli adesso con l'ice fake bianco forse 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 eccola bellissimo ice fake bianco da 1,6 grammi pronti un altro lancio come vedete la sfec ha una grande lanciabilità ci permette di raggiungere grandi distanze questo è da 1,6 grammi no slamata si è slamata ma aveva mangiato con questo ice fake ok eccolo qua con questo bel ice fake colore rosa con striature verdi ah si è slamata però ci aveva dato ecco un'altra trota con l'ice fake eccolo qua rosa con una striatura verde adesso mi viene invogliato fare un lancio ancora ecco un'altra trota con l'ice fake sembra una belva eccola molto arrabbiata eccola qua bene ragazzi la pescata di oggi è finita ci siamo divertiti facendo tante catture con l'ice fake su trote veramente difficili è stato spettacolare riuscire comunque a catturarle con questa bellissima esca uno spoon veramente eccezionale a questo punto mi raccomando iscrivetevi al canale e seguiteci nel prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti